Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo insieme la recensione del libro che ve lo dico già subito è il migliore dei prossimi dieci anni, ovvero The Starless Sea di Erin Morgenstern Grazie Pupi, perché ti fai le unghie ora? Ah, ok, niente, dicevo Parliamo di Starless Sea di Erin Morgenstern che come vedete non è immune dai gatti ho superato questa cosa, detto ciò è un libro meraviglioso e sta per arrivare in Italia Starless Sea si chiamerà Il mare senza stelle e quindi io non vedevo l'ora di parlarvene, ho rimandato, rimandato, rimandato perché tutte le volte che provo a fare questa recensione mi metto a piangere e quindi a voi non ve ne fregherà niente, però è un po' difficile montare video in questo modo e quindi io direi che bando alle ciance è ora di iniziare e come tutte le mie recensioni da un po' a questa parte lo imposterò come fa per voi cioè capire in base a dei parametri abbastanza oggettivi e sarà molto dura in questo caso se è un libro che può fare al caso vostro, vi può piacere oppure magari è il caso di lasciare stare io vi preannuncio subito che la risposta al fa per voi è probabilmente no mi dispiace dirvelo però in realtà io mi auguro molto molto di sì perché è un libro magnifico davvero lo dico con una proprio carica tale che spero davvero darete comunque una possibilità a questo libro che è davvero magnifico adesso la smetto, lo appoggio perché pesa e tra l'altro non c'è manco scritto il titolo nell'edizione che ho io se non sulla Spine e quindi andiamo ah ovviamente questa recensione è senza spoiler quindi potete seguirla tranquillamente che voi abbiate letto o non abbiate letto il libro perché sono impressioni generali cioè intanto vi spiego perché secondo me non è un libro per tutti e anzi vanno tenute in considerazione molte cose prima della lettura se già avete amato Erin Morgenstern come l'ho amata io visceralmente per Night Circus qua ci troviamo a vedere e ad assistere alla sua versione diciamo matura è come se fosse uscita da un bozzolo che già partiva in maniera magnifica Night Circus, il circo della notte è uno dei miei libri preferiti secondo me è bellissimo però è molto strano è molto originale è molto sui generis quindi insomma capisco che possa non essere piaciuto a tutti questo qua intanto è un libro che dà la spinta a tutte quelle che erano già le particolarità di Erin Morgenstern e quindi ancora di più forse in questo caso ci troviamo ad assistere a una sua maturità certa e molto manifesta molto evidente in questo libro e allo stesso tempo diciamo se c'erano cose che non avete apprezzato in Night Circus qua le vediamo in maniera ancora più acuite quindi io faccio questa premessa dolorosa per me perché per me è inconcepibile però mi rendo conto che se l'elemento di impostazione della trama e la scrittura di Night Circus non vi avevano convinti appieno qua non migliora la situa ve lo premetto in modo da uccidere subito l'hype per tanti di voi ma invece se avete amato e avete apprezzato Night Circus qua ragazzi è una festa ve lo premetto cioè proprio in una maniera molto basica questa è glorioso questo è proprio tutto ciò che volevate infatti Il mare senza stelle è un libro che è composto come se fosse una matrioska anche qua ci troviamo di fronte a un gioco che a Erin Morgenstern piace tanto infatti proprio come dentro una matrioska noi assistiamo a un involucro leggiamo di un involucro che al suo interno contiene tante altre storie ed è davvero un gioco riuscire a decodificarle e capirle è un libro strano chiaramente perché sono così le storie di Erin Morgenstern non sono mai manifeste proprio appena aprì il libro non seguono in alcun modo la struttura classica di un romanzo quindi non seguiamo l'inizio, lo svolgimento e la fine cioè sì anche quello ma non nella maniera classica in cui le intendiamo perché se vi aspettate qualcosa di narrato, scritto e impostato in una maniera classica anche per il fantastico, per il fantasy in questo caso ci troviamo nel realismo magico con molti elementi del fantastico e chiaramente questo non è un libro che fa per voi sono molto netta su questo perché essendo già uscito in tutto il resto del mondo ho letto un po' le critiche che non condivido ma mi fanno proprio rendere conto che è il libro che va percepito in alcune maniere oppure no io ora cercherò di guidarvi nella lettura per farvi capire se è qualcosa che può fare per le vostre corde ma anche una chiave di lettura che trovo molto utile insomma se però invece vi è piaciuto Night Circus questo sarà un'avventura davvero ancora più incredibile e molto più incantevole ma andiamo per gradi che cosa racconta De Starlessimi? quindi partiamo dalla trama allora Il mare senza stelle è una serie fondamentalmente astrusa e indecodificabile di favole frammentate intervallate dalla storia di uno studente che è un amante delle storie che le legge in maniera vorace e allo stesso tempo ha una grande passione per tutto ciò che è un po' retro infatti ogni capitolo è sempre marcato partendo dal nostro protagonista quando egli è presente infatti tutti i capitoli dedicati alla storia principale iniziano dicendo Zachary Ezra Rawlings che è il nostro protagonista insomma forse la specifica è più per ricordare a lui che è il nostro eroe che ricordarlo a noi però diventa all'interno del libro anche un buon filo conduttore sappiamo che quando i nostri capitoli cominciano così seguiremo la storia principale intervallata sempre da invece altre storie favole, racconti, frammenti, memorie infatti fondamentalmente De Starlessi, Il mare senza stelle raccontano la storia di un ragazzo che esattamente come tutti gli altri cerca di capire qual è la propria strada e mentre la sta cercando mentre cerca di capire dove andare si trova di fronte il proprio destino potremmo dire che ci si imbatte e questo lo trascinerà in un mondo sconosciuto un mondo dentro il nostro però fatto di tantissime storie infatti Zachary trova un libro misterioso e scopre che non parla soltanto di favole ma di una storia che sembra ricalcare anche gli episodi più segreti e più nascosti della vita di Zachary infatti racconta anche la sua e ripercorrendo quelle pagine Zachary riesce a ritrovare un episodio della propria vita molto molto cruciale infatti un giorno Zachary quando era un ragazzo trova una porta disegnata su un muro che sembrava stesse lì attendendo che lui l'aprisse ma Zachary non l'ha mai fatto non ha mai avuto il coraggio di attraversare quell'ignoto e quella porta lo avrebbe portato al mare senza stelle che è una sorta di labirinto sotterraneo una vera e propria realtà che vive sotto di noi dietro di noi nascosta dove non vediamo di storie che sono state incastonate nella carta nella pelle nei nastri in sudare funebri in caramelle insomma in ogni superficie che poteva accoglierle nel mare senza stelle in questo labirinto sotterraneo esistono delle storie e infatti una volta diventato adulto Zachary intanto scopre questo libro misterioso che si chiama Sweet Sorrow che non so come tradiranno in italiano dolci dolori dolci tormenti infatti Zachary proprio trovando questo libro riesce a raggiungere questo regno nascosto questo regno parallelo prima partecipando a una festa molto strana un'assurda festa letteraria che da lì in poi darà il via a una serie di eventi straordinari Zachary infatti riuscirà ad attraversare questa porta che gli è tornata in mente dopo tanti e tanti anni e si ritroverà coinvolto in una guerra spietatissima qualcuno vuole distruggere questo regno nascosto qualcuno vuole distruggere il mare senza stelle e sto dicendo stelle che per me è difficilissimo perché io direi stelle e Zachary si ritroverà coinvolto in questa lotta e insieme ad alcuni compagni dovrà salvare queste storie dalla distruzione però attenzione questa è una ricostruzione postuma durante la lettura infatti la storia di Zachary si intreccia con moltissime altre storie a volte si tratta di fiabe autonome altre volte di racconti postumi a volte frammenti e retroscena di altri personaggi e persino resoconti di incubi scritti da un pirata che li trasforma in stelle li piega in tante parti e li getta via insomma sebbene il nucleo del romanzo sia sicuramente la storia di un giovane che cerca la sua strada e che vuole conoscere il proprio destino questi filoni intermezzi creano una complessità molto ampia nella trama è una struttura così complessa dove le immagini si distorcono si deformano e si fondano insieme disorientando il lettore proprio fino all'ultima pagina quindi partiamo con tanta prospettiva insomma quindi secondo me la trama di Destarle si va vista sia da un punto di vista presente cioè mentre noi lo leggiamo ma poi va tutta rivalutata e rimodellata in base all'esperienza che abbiamo alla fine dove abbiamo proprio tutti gli strumenti per poter mettere in ordine per poter incasellare tutto ciò che è successo e poter capire fino a che livello di grandiosità a mio parere Erin Morgenstern riesce a costruire tutto un mondo che fila perfettamente e dove ogni cosa si incastra l'una con l'altra anche se è difficile è molto difficile secondo me comprenderlo una volta che la lettura è iniziata andiamo invece alla scrittura ecco io penso che leggere la Morgenstern in generale per chiunque sia un'esperienza davvero bellissima perché lei ha una scrittura altissima magnifica e non so non ci sono paragoni secondo me a livello di scrittura forse un'altra che scrive molto bene ma in maniera molto diversa è la Madeleine Miller ma sono due stili molto diversi ma Erin Morgenstern rimane imbattibile per me la sua scrittura è proprio l'aspetto migliore e peggiore di ogni cosa dico peggiore perché se amate le storie immediate le storie diciamo lineari le storie dove tutto soprattutto la gratificazione arrivano nell'immediatezza nel secondo successivo insomma svolgimento di un evento che poi porta ad un altro si concatena insomma dove tutto fila in maniera lineare ecco questa non è nella storia nella scrittura che fa per voi e se non avete la pazienza se non volete richiedere alla lettura nessuno sforzo soprattutto a voi stessi ecco per questo che dico che è la parte peggiore se volete una storia che non sia metaforica se volete poche immagini durante la lettura ripeto non è la storia che fa per voi ma se avete la pazienza e la forza di fare una cosa che è molto anticontemporanea per certi versi antimodernista in qualche modo l'avere pazienza il cercare di avere gratificazioni molto rimandate solo alla fine però se avete la pazienza di aspettare soprattutto per avere le gratificazioni più grandi cioè il ricondurre tutto il comprendere tutto più o meno tutto quello che potrete comprendere ma soprattutto avete il piacere di leggere perché questa è una storia che si fonda sulla bellezza delle parole sulla magnificenza che ha questa scrittura e allora questo è un libro che chiaramente vi catturerà come pochi perché davvero io mi rendo conto che leggere soprattutto fantasy in questo momento richieda poco sforzo questo infatti è un libro che pretende da voi molto intanto avete però ve lo dico tranquillamente una gratificazione immediata infatti la prima cosa che salta all'occhio è la bellezza ed è innegabile questo aspetto nella sua scrittura cioè per me è indiscutibile la bravura con cui Erin Morgenstern mette le parole una vicina all'altra le sceglie con cura le coccola e si vede che è affezionata ad ognuna di loro perché ogni frase diventa qualcosa di iconico ogni frase è scolpita ed è stata messa lì per un motivo molto preciso non c'è mai l'uso non razionale o solo per il gusto della bellezza perché è la bellezza sempre accompagnata da un grande senso a volte metaforico a volte diciamo immediato perché è per i fini della trama e della costruzione di tutto il suo mondo però c'è un'accuratezza una precisione che davvero secondo me sono encomiabili sono qualcosa che non ha pari in questo momento nel panorama fantasy contemporaneo nemmeno le autrici e gli autori che io amo molto questo è proprio un atto di amore verso la lingua la scrittura e le parole e tutto ciò è volto sempre a essere trasformato in immagini perché questa è la cosa che riesce meglio infatti tutta la scrittura della Morgenstern è molto immaginifica è molto tangibile secondo me ci riesce anche meglio che in passato cioè rispetto a The Night Circus perché Il mare senza stelle è un libro proprio pensato in una maniera molto precisa ha un ritorno circolare della sua storia principale intervallato sempre da tanti episodi tante favole tanti frammenti che apparentemente disturbano interrompono e deviano un po' la narrazione questa è un po' la sensazione iniziale ma iniziamo a capire che invece ogni favola rappresenta un elemento della storia ogni favola rappresenta della metafora di qualcos'altro e alla fine dovremmo capire quali parti corrispondono a cosa è anche quello il gioco nella sua scrittura questa cosa a me piace un sacco perché è qualcosa di fresco è qualcosa che non è immediato facile da comprendere non lo so vabbè smetto di esaltarmi perché ho detto che questa era una recensione oggettiva però insomma faccio fatica perché è davvero uno dei libri più belli che io abbia letto negli ultimi anni e in questa dinamica circolare ma non solo ogni parola è stata scelta con cura ogni episodio ogni immagine sono lì per un motivo molto preciso questa attenzione quasi maniacale devo dire nella costruzione della storia per me è qualcosa di grandioso ma questa struttura ha anche un po' un gioco diciamo reversibile no? la struttura fa reggere tutta la scrittura però allo stesso tempo si costruisce solo e unicamente grazie alle sue immagini quindi noi componiamo la storia tassello dopo tassello ma allo stesso tempo se non avessimo questa impostazione non riusciremmo a costruirla come è stata pensata quindi è proprio molto molto forte insomma noi abbiamo diversi indizi lungo il corso della lettura che dobbiamo collezionare e sono moltissime ogni cosa ogni gesto ogni azione ogni personaggio ogni storia è qualcosa di prezioso per riuscire poi a costruire questo mondo a costruire forse questo mare senza stelle che in realtà di stelle ne ha tante insomma c'è tutto questo rimando tra storia principale e immagini che rappresentano delle metafore è costante è continuo è qualcosa a cui va prestata moltissima attenzione cioè in qualche modo secondo me riprende anche un modo molto antico di raccontare le storie dove il valore simbolico si cela dietro ad ogni scelta cioè ogni piccola cosa che viene inserita ha un valore metaforico e simbolico questo comporta ovviamente il creare un'infinita serie di storie dietro alle storie cioè quindi ampliando proprio le dimensioni della narrazione non è più una narrazione solo lineare nemmeno una narrazione che si muove dentro lo spettro di se stessa ma diventa qualcosa di talmente ampio che è difficile racchiudere ed è difficile anche proprio da contenere ed è per questo che secondo me mare è la parola corretta perché il mare è qualcosa che ha delle forme che continuamente mutano e ogni volta che si prova ad afferrare l'acqua l'acqua ti sfugge l'acqua assume un'altra forma cioè le storie gli oggetti i personaggi i luoghi ma anche i significati stessi stanno al lettore a volte molto spesso è il lettore che deve interpretarli perché non verrà mai rivelata la loro vera natura o la natura diciamo fissa unica perché forse non ce l'hanno forse è questo il bello di questo racconto il fatto che sia il fatto che questo mare possa prendere la forma di chi lo legge ed è solo attraverso l'esperienza del lettore che questi simboli assumono un significato cioè quindi questa interpretazione non può mai essere univocano questi simboli hanno un significato un'interpretazione che non è mai unica e non lo può essere devono diventare anche parte stessa del lettore dell'esperienza di lettura qualcosa di complesso però davvero penso che lo capirete in una maniera molto chiara una volta terminato questo libro cioè il modo in cui il lettore interpreta le varie figure ricorrenti come la lepre o il significato delle api o chi è in realtà il re gufo sono elementi che sono lasciati completamente alla propria esperienza questo approccio ecco può essere da un lato esaltante come lo è stato per me però mi rendo conto che dall'altro lato può essere esasperante chi non ha la pazienza di ricostruire e creare un'esperienza parallela a quella di lettura lo troverà stancante sfiancante però secondo me spesso le migliori esperienze di lettura devono essere esasperanti perché la storia si strappa in maniera decisa a una convenzione che sembra ormai radicata nel genere e quindi una volta che l'esperienza si modifica l'esperienza di lettura in questo caso si modifica disorienta e in qualche modo esce dai parametri che siamo abituati a conoscere però secondo me è una storia che richiede tanta pazienza e fiducia perché altrimenti rimane solo sul livello di assimilazione cioè l'apprendimento di una serie di nozioni parole bellissime frasi meravigliosi e concetti che non vengono mai rielaborati dentro di noi e se ci fermiamo solo al ho letto una storia scritta molto bene ma mi ha frustrato perché non torna tutto in maniera A-B non lo so la trovo l'esperienza peggiore che possa capitare soprattutto perché forse non è così che va interpretato questo libro quindi insomma ricordatevi di leggerlo sempre con uno spirito di interpretazione molto personale perché senza quello vi mancherà un pezzo molto importante della lettura vado avanti perché poi insomma riguardo sempre la scrittura vi dicevo prima che Harry Morgenstern scrive molto per immagini cioè lei è davvero una costruttrice di grandi piccoli quadretti infatti ogni immagine è sicuramente bellissima e meravigliosa cioè pensate a questo tipo di immagini che lei ci presenta nel profondo del mondo nascosto c'è una statua del destino e sul suo vestito ci sono congelate delle piccole navi che si sono incagliate e anche solo vedere quanto può essere poetica queste immagini che fondamentalmente racchiude il senso stesso di destino e di come l'uomo faccia fatica ad avere a che fare con esso è qualcosa secondo me molto potente pensate il mare senza stelle è fatto di miele quindi non è acqua ti afferra ti ingloba e non riesce mai a rilasciarti quindi tu puoi rimanere intrappolato in questo mondo perché le storie possono creare questo poi ci sono pirati che non sono veramente pirati ragazze che non sono veramente ragazze ma sono metafore non lo so tutta questa complessità questa costruzione del mondo così per immagini è bellissima cioè da leggere l'ho già detto 800 volte ma da leggere è veramente incredibile tradizionalmente è uso della fiction fantasy utilizzare leggende e storie antiche come base e in un senso molto profondo anche questa è una collezione di storie ancestrali fondamentalmente un eroe che cerca la propria strada le storie di una battaglia che rappresentano ovviamente il bene contro il male la luce contro il buio ma mai in una maniera manifesta sempre molto sottile molto nascosta la storia di due amanti separati insomma il romanzo raffigura tavola dopo tavola praticamente con una serie di illustrazioni le sue storie dentro la storia che sono storie anch'esse cioè ci si aspetta per questa esperienza di lettura di poter accettare una serie di storie improbabili metaforiche mai superficiali nel loro significato e questo in fondo secondo me è un modo di raccontare che è parte stessa di come sono nati i miti di come sono nate le leggende di come sono nate le storie più antiche dell'umanità cioè non è un modo di pensare sconosciuto è un modo di pensare in realtà tra i più antichi che ha sempre avuto l'uomo cioè in questo caso per me più che un nuovo romanzo fantasy è fondamentalmente un mito quasi artificiale a sé stante nuovo che vuole identificarsi nella società attuale riprendendo però i modelli più antichi sembra proprio avere quella necessità di saldare insieme la voglia di una nuova tradizione fatta di miti per i tempi moderni ma con un approccio che è stesso della natura dell'uomo quindi antichissimo cioè qua sono io che sto divagando veramente tanto abbiate pazienza avrà senso una volta letto questo meraviglioso libro e forse avendoci passato un mese e mezzo a elaborare tutto ciò che avete letto poi non so fra un mese magari sembrerà più lucido questo mio discorso no comunque come ogni mito questa storia rifiuta di decodificarsi e di decodificare i propri simboli insomma ogni lettore potrebbe trovare questa vaghezza deliberata ovviamente come o edificante magnifica un'esperienza clamorosa oppure frustrante o esasperante ma diciamo che sia la portata che l'ambizione del romanzo per me sono innegabili cioè secondo me noi ci troviamo di fronte a qualcosa che non ha uguali in questo momento cioè io ad ora tra l'altro sempre riprendendo la scrittura perché siamo ancora nella fase della scrittura dopo sto pippone lunghissimo io non ho mai trovato nessuno che riesca a essere così immersiva come lo è Erin Morgenstern cioè Erin Morgenstern riesce veramente a far sentire il lettore una parte integrante della storia un vero e proprio spettatore al fianco dei personaggi e di ciò che stanno ricostruendo cioè non vieni mai solo lievemente a contatto o non vieni mai solo affascinato dalla storia ne diventi proprio parte cioè secondo me è un'esperienza così potente io non ho trovato qualcuno che riesca a essere paragonabile a Erin Morgenstern soprattutto a questo secondo romanzo io l'ho letto a dicembre quindi è passato un po' ovviamente perché ci ho dovuto ragionare moltissimo e mi sono proprio resa conto che mentre lo stavo leggendo non era la classica esperienza di lettura molto immersiva era proprio essere parte di un mondo che fondamentalmente anche io volevo scoprire e che ho seguito con una fede cieca e questo per me è imparagonabile a qualsiasi altro scrittore o scrittura anche quelli più bravi anche quelli che io amo molto non è la stessa cosa cioè non so vabbè basta delirio di onnipotenza davvero io penso con fiducia e con sincerità che questo sia il libro meglio scritto degli ultimi e dei prossimi dieci anni soprattutto nel panorama del fantasy perché è quello di cui mi occupo io prevalentemente ci troviamo ovviamente a leggere una storia che più che nel fantasy classico come viene concepito cioè l'epic fantasy per tutti è quello il fantasy classico è in realtà realismo magico con molti però elementi fantastici molti elementi che sospendono il giudizio del lettore di fronte a qualcosa di fantastico o di fronte a qualcosa di irreale ma allo stesso tempo plausibile e perché questa plausibilità te la danno proprio le storie tutte le storie che hai letto tutte le storie di cui ti sei innamorato cioè tu in qualche modo nella tua mente hai fatto spazio a questo insomma quel margine di apertura dove noi immaginiamo che anche le cose più improbabili meno plausibili sono quegli elementi che fondamentalmente ogni lettore ha imparato ad assorbire come propri cioè quella finestra che ti apre a dei mondi che non hanno nulla a che fare con il reale che probabilmente sono cose che non succedono e non possono succedere però il fatto di tenere quella finestra aperta e provare ad esplorarla sospendere il giudizio seguire ciecamente la storia scritta da uno scrittore che ti traghetta dentro e ti guida ma a volte non ti guida ti abbandona lì dentro questo secondo me è proprio il significato del potere che hanno le storie e perché sono così forti per noi lettori e basta perché ora mi metto a piangere perché sono emotiva quando parlo di queste cose però veramente penso che questo libro più di tanti altri riesca a celebrare questo mondo aperto questo spiraglio che noi ci concediamo nella nostra realtà per affrontare tematiche e cose che invece nel nostro mondo reale non esistono ma esistono sotto altre forme oppure se hanno altre forme comunque non sono ciò che rappresenta il potere che hanno queste storie consolatorio e descapistico e qualsiasi altra cosa basta ora vado avanti perché devo parlarvi dei personaggi e non devo quindi andiamo avanti e ora parliamo dei personaggi perché questa è una nota che va molto compresa altrimenti sentiremo le cose che ho sentito scrivere e legge e ho letto in tutte le altre recensioni che secondo me cioè i personaggi in questo libro sono veramente da interpretare non sono il fulcro del romanzo non è sicuramente un libro character driven né un libro dove anche le relazioni tra i personaggi hanno un significato esplorato diciamo elaborato anche secondo la scrittura perché non è quello il loro senso hanno una profondità che non è mai indagata non abbiamo delle informazioni in abbondanza sui nostri personaggi e non ne ricostruiamo una psicologia abbiamo pochissima informazione su di loro e li seguiamo nel corso della storia ma ogni personaggio fondamentalmente ha un involucro che rappresenta qualcosa cioè se noi cerchiamo dei personaggi ben approfonditi sviluppati eccetera non è questa la storia dove li troverete anche io che amo moltissimo le storie invece trascinate dei personaggi mi rendo conto che proprio non è questo il significato dei personaggi nella storia sono delle vere e proprie riflessioni sui topoi moderni potremmo dire il loro significato assume un significato più ampio perché sono dei simboli di ciò che invece viviamo noi nella nostra realtà cioè incarnano l'essenza stessa sia del loro ruolo che del loro significato cioè Zachary è uno studente prima e poi diventa un uomo come tanti altri che cerca e non si rassegna al proprio destino cioè cerca la propria strada ma si aspetta anche la felicità si aspetta di trovare cose che ha represso nascosto esattamente come quella porta che non ha aperto e quel mondo che non ha attraversato spinto sempre da questa viscerale passione per le storie che lo ha governato e che lo governa tuttora è un uomo fermo in questa soglia tra il mondo reale ma anche il mondo delle storie che è il mondo che ovviamente preferisce preferiremmo tutti noi poter avere la possibilità di leggere storie tutto il giorno all'infinito e non fare nulla e non avere le preoccupazioni dell'esterno è qualcosa che ci consolerebbe moltissimo i suoi dubbi infatti sono esattamente i dubbi che abbiamo noi come esseri umani come ragazzi persone uomini donne nel mondo di oggi cioè sono davvero rappresentazioni dei dubbi e dei piaceri delle aspirazioni degli uomini moderni questo secondo me è qualcosa che va tenuto a mente ma anche Mirabel Dorian Allegra cioè pensate Allegra è un personaggio che rimette insieme le maniglie delle porte che ha smantellato nel mondo sotterraneo e nascosto e questo è il filo conduttore del suo personaggio rimettere insieme cose distrutte cercare di cambiare ciò che non ci andava bene sulla schiena di Dorian che è un personaggio molto importante all'interno della storia è raffigurata la storia della O'King cioè il re gufo e questi sono ovviamente simboli i loro personaggi non devono avere un'espressione come personaggi a sé stanti cioè sono l'interpretazione di un ruolo e di un simbolo e senza vederli in quest'ottica sembreranno dei personaggi molto mediocre perché in fondo è tramite loro che invece trasciniamo la storia avanti è tramite loro che riusciamo a ricavare dei simboli e soprattutto dei parallelismi con le favole che leggiamo quindi insomma anche le relazioni che si stabiliscono hanno dei significati più profondi rispetto a ciò che possono sembrare in realtà non sono mai lasciati alla visione più superficiale che si può avere di questo racconto ecco tenetelo sempre presente anche perché davvero secondo me non saranno i personaggi a trascinarvi in questa storia a farvi innamorare di questa storia e direi di passare a cosa non mi ha convinta che in realtà è molto poco vi devo essere sincera io non ho riscontrato cose molto rilevanti e ve lo dico sinceramente perché secondo me tutto si spiega e tutto è parte di un piano molto molto ben architettato e accurato è chiaro che ci sono momenti più dinamici rispetto ad altri il finale è un finale che può sembrare frettoloso da un certo punto di vista e anche troppo aperto perché il suo significato è lasciato molto all'interpretazione del lettore ma io ho trovato questo elemento estremamente ponderato e corretto perché fondamentalmente esprime il senso stesso della storia ci sono collegamenti tra tutti gli elementi che noi possiamo tranquillamente ricostruire ma il significato che diamo a tutti loro è qualcosa che diamo noi non è solo qualcosa che ci cala dall'alto l'autrice perché perderebbe la sua magia perderebbe il suo senso e il suo significato e questo connubio tra esperienza significato e la correlazione sempre solo il lettore cioè ciò che dà significato all'esperienza oppure dà l'esperienza un vero significato è solo il lettore che lo può fare e mi è piaciuto molto in verità questo aspetto perché è qualcosa di così cioè che ti dona così tanto potere come lettore che in pochi lo sono riusciti a fare e poteva essere una perculata come poteva essere magnifica come in questo caso cioè è davvero sempre qualcosa che viaggia sul filo del rasoio per alcuni sarà estenuante stressante frustrante per altri invece sarà un'esperienza intensissima nuova e così è stato per me perché riaccumula tutta questa narrazione tutti gli elementi più profondi della insomma dell'universalità del raccontare storie però allo stesso tempo dà moltissimo potere al lettore è qualcosa che secondo me non è scontato perché poi lo rinnova rinnova questo patto tra autore e lettore tra storia e lettore e lo so è qualcosa che trovo originale brillante magnifico ed eseguito benissimo ecco io mi rendo conto che chiaramente però questo non può piacere a tutti questo piacerà ad alcuni per altri risulterà un'esperienza terribile perché questo è un libro rivisivo chiaramente come ogni libro nuovo come ogni libro che dà degli spunti verso il futuro è qualcosa che dividerà è un libro proprio complesso non è mai chiaro fino in fondo e non vuole nemmeno esserlo che anche questo è qualcosa che fondamentalmente può disturbarti cioè non tutti sono disposti ad accettare queste premesse ma se voi sospendete per un attimo la ricerca ossessiva di chiarezza e forse anche la volontà di trovare qualcosa che vi è familiare ma invece lasciarvi trasportare in un modo nuovo in un modo nuovo di raccontare secondo me a questo punto voi avete la chiave perfetta di lettura per un'esperienza invece molto intensa e molto magnifica se abbracciate veramente il mare di miele secondo me sarà un'esperienza davvero intensa e ineguagliabile in fondo il significato secondo me più profondo di The Starless Sea è quello di rendere un tributo alle storie nasce proprio come un tributo devoto a queste ma è evidente alla bellezza di raccontarle ma anche alla bellezza di leggerle è un libro che ci riporta alla pazienza a un momento di ascolto proprio come si faceva nelle storie tramandate per via orale oppure quelle che si possono vedere come immagini nei racconti più antichi sulle pareti cioè è proprio un tributo anche all'attendere una gratificazione sempre rimandata però nel frattempo vivere un'esperienza piacevole bella perché è esattamente ciò che le storie sono cioè le storie che noi leggiamo che noi viviamo vediamo ascoltiamo sono proprio qualcosa che ci fa sentire bene o tendenzialmente ci fa sentire bene proprio perché sono raccontate anche se sono storie tragiche che siano storie magiche fantastiche quello che volete però il bello di una storia è che ti viene voglia di stare lì e aspettare la fine cioè questa è proprio una gratificazione rimandata fino all'ultima pagina però tu hai la certezza che arriverà e questo è ciò a cui vi dovete aggrappare è un tributo davvero molto devoto all'amore per le storie per i racconti perché sono ciò che come lettore ti guida e ti definisce in parte cioè secondo me nessuno può eguagliare in questo momento per intensità bravura originalità questa magia perché Starless è un mare senza stelle quindi già di per sé è qualcosa che non esiste ed è veramente magico emozionante cioè e racconta quella sensazione di magia di emozione e anche di devozione per le storie per i racconti per le favole per i miti e anche quel bisogno profondissimo che hanno gli esseri umani proprio di queste storie cioè una lettera d'amore una preghiera un'ode a tutto ciò che significa raccontare insomma io penso che chiunque abbia letto e abbia amato la lettura non può che essere una piccola storia dentro questo mare infinito e leggere un libro come questo secondo me sarà un'esperienza incredibile e vi lascio con una citazione che dice strange isn't it to love a book when the words on the page become so precious do they feel like part of your own story because they are e questo è il significato del mare senza stelle e niente io ragazzi la finisco qua è stata una recessione durissima spero si sia capito qualcosa e anche se non si è capito comunque leggete The Starlet sì il mare senza stelle esce per fazzo editore non mi ricordo bene quando ma leggetelo lo dovete fare sentitevi minacciati come per Sadie Corvi perché sinceramente è un libro magnifico non è per tutti ricordatevelo tenetelo a mente ci tengo a sottolinearlo molto ma se avete la pazienza e la voglia di buttarvi su un'esperienza unica Starless sì e grazie Erin Morgenstern di averci messo dieci anni per creare un libro un altro libro bellissimo niente io vi ringrazio per aver assistito a questo delirio che ho messo in piedi con grande difficoltà e poca lucidità è stato molto difficile girare questa recensione perché a parlare male delle cose sono molto brava a parlare in maniera molto analitica delle cose sono brava parlare bene di cose che ho amato è molto difficile soprattutto quando è difficile decodificare perché è una cosa veramente grande ci ho messo tantissimo e niente insomma spero vi piaccia spero tanto 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 che vi piaccia e niente io direi che per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video e direi ciao ciao